I cittadini liberi di Mazzara del Vallo tornano a protestare accanto a me Gaspere Accardo che sta portando anche in giro per la Sicilia questa protesta in favore dei prodotti siciliani e contro appunto questa introduzione nel mercato siciliano di prodotti esteri. Lunedì si torna dove e quando? Allora lunedì ritorniamo nelle strade di tutta la Sicilia per protestare la situazione economica di una crisi molto profonda e che ogni anno diventa sempre molto più delicata. Noi ci siamo riuniti a fare vari movimenti e associazioni di lavoratori in tutta la Sicilia, coinvolgendo anche vari movimenti di gente di orientamento politico diverso, lavoratori di tutte le categorie per finalmente dire che il popolo si sta unendo e cercare di manifestare questo degrado in maniera forte. Dovevamo fare una protesta a Messina che stava andando molto bene, purtroppo le prefetture hanno impedito di fare questa manifestazione a Messina. Noi la faremo più avanti, ci stiamo organizzando in un altro punto della Sicilia che tutti insieme faremo questa azione. Quindi però abbiamo deciso che il giorno 23 in tutta la Sicilia e in tutte le categorie torneranno a manifestare, a fare capire a tutti la grave situazione che c'è. Ci saranno autotrasportatori, ci saranno agricoltori, la manieria, disoccupati, studenti. Tutte le categorie perché la situazione è molto grave e tutti stanno capendo finalmente, anche se la gente non riesce, come vediamo, a partecipare, a reagire. Però tutti ormai hanno capito come la situazione è molto grave e tutti credono che è ora veramente di uscire e manifestare. Chi dice che queste manifestazioni non servono a niente è un grosso danno che fanno a loro stessi e alla propria famiglia, perché fanno un male enorme, perché non reagendo. Ogni giorno la crisi aumenta e la gente si lascia stare in depressione, in beneficismo assurdo è un grave danno per tutta l'Italia. Noi il 23 saremo di nuovo, noi faremo ammazzare il presidio all'uscita dell'autostrada, rifornimento totale aereghe di Cipolla. Faremo questo sit-in, faremo del volantinaggio, incontreremo la gente, fermeremo delle macchine, dei camion, perché il tema importante di questa manifestazione è la tutela dei nostri prodotti, delle nostre aziende. Ormai la maneria di Mazzara del Vallo e tutte le manerie della Sicilia sono ormai in disarmo, sono fermi. Il prodotto di Mazzara del Vallo era il prodotto più docchi, più stimato in tutto il mondo, non solo in Europa. Ora la maneria non esiste più, anche stessa l'agricoltura, gli aranci della Sicilia erano un marchio di fabbrica, in tutto il mondo se ne parlava degli aranci della Sicilia. Ora hanno consentito le aranci che arrivano dal Marocco, da tutte le parti e quindi questo ne risente alla nostra economia, che riguarda tutti i settori, perché io con il camion, tutti i trasportatori non ci sono più, si salde tante volte vuote, perché non c'è più merce, il pesce, le barche sono ferme, le aranci e tutti i tipi di frutta di stagione rimangono come quest'estate, le anguglie sono rimaste a marcire nelle piante. Quindi diamo veramente un segnale molto importante, anche per la nostra salute, perché molti prodotti che arrivano dall'estero, non è come i vestiti, perché i vestiti... Non c'è la tracciabilità, insomma. Esatto, non c'è la tracciabilità, non è come un vestito che uno stava a comprare un vestito economico dai cinesi, ci può anche stare, ma l'alimentazione è fondamentale, quello che mangiamo per i nostri figli, per la nostra famiglia che arriva, merce senza controllo, di bassa qualità, che può veramente danneggiare. Quindi è tutta una cosa tutta completa che riguarda tutta questa situazione. Perfetto, quindi l'appuntamento per difendere il Made in Sicily è lunedì mattina, il 23 lunedì qui a Mazzara del Vallo, sulla Statale. Quindi mi raccomando, per informarvi e per saperne di più, l'appuntamento è qui a Mazzara del Vallo, lunedì 23.